Unicron Zombie Apocalypse Ciao ragazze, come state? Spero bene Allora, nuovo video, che è felice, anche oggi e comunque mi trovate in bagno perché non sapevo altro di mettere lì, a spettare di prendere perché non so sicuro che sta registrando si sta registrando qui e niente, e vi dicevo dunque come state? Sì, lo so che avete quello che non dovete vedere ma in bagno viene più comodo, poi c'è una bella luce in bagno e niente come state voi? io sto altrettanto bene e niente aspettate un secondo che levo la suoneria, aiuto ok se la farò non fare danni già, ops no questo è toccato qua, aspettate un secondo perché qui è tutto un... ok è tutto un sfare di sfare che fa sotto l'economia ok, scusate un po' allora, cosa vi racconto di bello? sto riuscendo a guarire da questo lungo, vedete? questo lungo tra un busto della faccia l'unfio però piano piano ce la sto facendo allora, tra poco a pranzo si ciavone a cena mangerò patate fritte finalmente ma non di quelle proprio volenti appena uscite dal fuoco però una cosa leggera ovvero mangiare patate patatine fritte però in, come dire un po' tiepide perché io ancora ho la ferita un po' mezza aperta in bocca non aperta me l'ho cucita per stati però dopo stare attenta al tipo di al cibo che mette in bocca che non sia troppo bollente ecco tutto quanto quindi perdonatemi se sia fatto farsi questa cosa ma è la verità ragazzi mie quindi non si sfugge e niente comunque niente ragazzi mi chiedo di un punto che parlo se questo video vi può piacere mettete un bel like di supporto un commento e attivate la campanella se vi iscriverete al mio canale youtube e niente quindi questo video che cresce dove vi parlo un po' di tutto e vi spiego anche perché sto mancando così tanto da youtube un po' si un po' di entro un po' di un po' me ne vado un po' di entro un po' me ne vado però vabbè niente allora vedete ho questo spinto outfit con questa maglia qui e ho questo come si può dire questo è una specie di vedete cos'è un un pantalekins e vabbè lo so questa non ci sta con questa con questa maglia con questa maglia intima della salute però raga io ho freddo ancora me la senso di spugliarmi definitivamente quindi ancora portate pazienza ma è troppo freddo quindi non va bene ragazze mie che mi svesta ancora qua e niente ragazze io volevo dirvi che mi ha che mi ha fatto la maschera avanti la maschera la maschera di la maschera per i capelli e sto utilizzando questa maschera qua vedete questa qua questa che è ultra dolce maschera riparatrice intensa molto buona fa un buon profumo e mi strappiace quindi top questo si vede qua ah ok niente questo ha un profumo molto buono e per capelli sciopati e danneggiati e in effetti è vero i miei capelli erano un po' danneggiati e soprattutto sciopati rivitalizza ripara intensamente fino alla punta fino alle punte si in effetti è vero ragazze mie questo è ultra dolce garniere rimedio d'acero olio di mandorle e linea d'acero capo buono ragazze questo è un che flacone è questo drogarniere non mi ricordo quanto ce n'è di ml ah si ecco la qua la vedo qua ed è un 300 ml di prodotto per 12 mesi di pao vedete eccolo qua si e mi stra piace quindi ragazze se a voi vi può interessare questo questo prodotto potete prenderlo o da attività dove volete voi anche da sefra non lo so google ascolter e a me piace davvero un sacco molto buono e con una promozione è veramente ottimale non è male per niente poi sempre a sapone profonde ho acquistato e l'ho provato 100 milioni di volte questo splendor balsamo appena lo chiamano ve lo andrà a mangiare ragazzi mie comunque allora splendor balsamo questo qua al cocco addolcente per capelli lunghi e ribelli come me d'altronde che sono afro ovviamente e niente quindi questo qua morbidezza naturale capri lunghi e ribelli appunto molto buono qua ce n'è 300 ml di prodotto per un pao di 12 mesi anche questo è stra buono e top mi piace un casino l'ho voluto riacquistare perché non ne avevo più un doccia e quindi eccomi qua poi come shampoo sto utilizzando questo qua vedete questo questo qua poi faccio lo zoom vedete questo qua della fructis antiforfora ma vabbè in come dire ce ne diverse giù che vabbè non sto lì a spiegarvi troppo che non sono antiforfora ma sono diversi per ci siamo capiti e per mettere cioè come posso spiegarmi non vi la mette sul termine insomma quando non la fuorfora ho utilizzato diversi sciampi normali quelli di al pistacchio e le mango poi come bagno schiuma sto utilizzando questo qua questo allora questo qua sto utilizzando che è molto buono della vidal ma se no c'è questo qua della mantovani vedete mantovani è stra buono mi piace un casino l'ho utilizzata per lavare le mani perché è molto molto delicato mentre per quanto riguarda i capelli che ho terminato ho terminato questo qua subli colore termoprotettore con oli di fiori preziosi filtro UV raggio UV vedete questo sarebbe colore esaltato protezione non mi interessa tanto i capelli ce li ho colorati già di natura ovvero io non mi li decoloro per niente perché sicuramente ancora non sono invecchiati i capelli non sono diventati grigi chiari grigi capelli grigi appunto capelli colorati e vabbè e niente poi l'oreale vive olio straordinario molto buono mi è piaciuto e non li comprati ce l'ho un camera ovviamente 100 ml prodotto per 18 mesi di pao top mi è piaciuto un casino mentre scusate ragazzi si era staccato dalla presa della della cosa della registrazione questa comicellare mi sta stra piacendo un casino ed è stra buona mi piace da matti è fantastica è top è fenomenale stinker active acqua micellare sensibile per tutti i tipi di pelle e strucca e terzi è molto buono mi piace mentre come seconda struccante ho utilizzato questo sia me la mia faccia che per struccarmi top mi piace della questa qua vedete ha qua le rose come tonico ho utilizzato questo questo qua visci vabbè non è il massimo della mia pelle ma però mi toglie il residuo di trucco e mi aiuta tanto molto buono poi come crema utilizzo questo vado veloce perché non voglio che si stacasse la cena presa ovvero il video acqua alternale visci acqua in questa si assolve rapidamente ed è stra buona quindi non dà fastidio non è appiccosa e si asciuga in un secondo non tanto per dirvelo ma veramente si asciuga in un secondo ed è molto buona mi piace davvero da matti e quindi è valida soprattutto perché è di sci quindi top mi piace e questo è questo è per 12 mesi di pouch quanto vale il prodotto top e niente ragazzi mentre come trattorante sto utilizzando questo qua della DAV molto buono e niente e mi piace davvero vabbè questo ogni torta mi faccio la doccia ogni volta mi faccio la doccia lo utilizzo perché lo amo e mi ne sono stra innamorata mentre quello che vi dicevo da prima sarebbe questo qua della omia omia non mi è piaciuto per niente all'inizio l'ho presa così per caso perché non so cosa stavo prendendo ho preso questo ma sono un po' scettica e sa di sa di eucalipto e per fatti a me no non mi piace per niente infatti boh me lo fa impazzire quindi 150 mele di prodotto boh vabbè niente ragazzi lo rimetto di dovera ok nulla ragazzi non mi stico della mia schinchera quale perché l'avrete già sentita parecchie volte però questa è la mia schinchera però utilizzate tutto di più questo l'ho appena comprato questo perché mi sta strapiacendo questo della splendor lo ricordo più volte niente ragazzi tra poco vado a mangiare perché ho una fame boia e poi ci vediamo in un altro video questo lo taglio lo lascio così per com'è perdonatemi per il cesso ma chi è che non fa il video a mettersi trucco in bagno come Anna Magni in tante altre io faccio i video in bagno per me decine inserire alcuni prodotti non vedo che ci sia di male e niente ragazzi se questo video appunto vi è piaciuto mette un bel like e il supporto un commento e perché no attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video aggiornamento tra poco mi ho taggato le piante di tere un bacio e vi saluto ciao attivate la campanella se mi interessa il mio canale di youtube niente iscrizioni forzate però se mi interessa iscrivetevi ciao like e un bacio e un commentino qua sotto nella sezione commenti ciao ragazze ciao un bacio vi voglio tanto bene e sappiate che vi penso sempre anche quando non ho visto i video ovviamente come giusto che sia ciao ah lilac blue cake il cupcake e dimensione benessere stefi stefania e ausilia e tutti gli altri ciao ciao a tutte e non so a tutti voi salutarmi siete tutti salutarmi anche se no vi nuovino nell'info box ma siete tutte salutate ciao a presto un bacio ciao vi voglio bene ciao